I carabinieri del comando provinciale di Cosenza questa mattina hanno eseguito 19 provvedimenti di custodia cautelare di cui 11 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 con obblighi di dimora. Le persone coinvolte appartenevano a due distinti gruppi criminali dediti a furti e rapine in appartamenti e esercizi commerciali. I gruppi sono composti da soggetti provenienti da paesi dell'est europeo e italiani, alcuni dei quali stanziali nella zona di Corigliano Rossano, altri nel centro storico di Cosenza. Il dato sicuramente più importante è che sono stati raccolti degli elementi di prova molto solidi in ordine a circa 40 colpi tra rapini in abitazione e furti. furti che venivano in gran parte perpetrati in zone di sviluppo come la zona industriale di Rende o ancora la zona industriale di Montalto Fugo su un parterre di esercizi commerciali e di aziende di vario genere. Si tratta di bande, gruppi criminali strutturati, ben organizzati all'interno. L'organizzazione non sta soltanto nella suddivisione dei ruoli, quindi chi aveva quale compito principale di occuparsi delle frazioni, quindi seracinesche, modalità per entrare all'interno dell'esercizio dell'azienda, chi doveva materialmente portare all'esterno l'area furtiva, ma il fatto proprio di dettagliare il piano dai giorni precedenti in maniera molto meticolosa, quindi come e quale obiettivo selezionale, quale tragitto in termini di rete viaria percorrere e soprattutto durante l'azione farsi accompagnare da staffette per evitare di doversi imbattere in pattuglie dei carabinieri. E' un'indagine importante, è importante dire un'altra cosa, è un'indagine che parte da una stazione dei carabinieri, noi lavoriamo molto con le stazioni, qui c'è un problema su Cosenza, viene considerato dal punto di vista investigativo una sorta di cenerentola, nel senso che si ritiene, verosimilmente anche con un pizzico di ragione, che altre realtà meritino più uomini, più presenza, eccetera. Guardate che invece su Cosenza c'è una realtà criminale importante, diffusa, predatoria, che crea problemi alla sicurezza dei cittadini.